E saluto Antonello Giannelli che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi. Buongiorno Giannelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è un po' l'uomo del giorno, anzi di questi giorni, viste le tante criticità che attendono il personale scolastico, gli studenti, i genitori. Allora, io vorrei intanto partire proprio da lei con una domanda intanto di grande attualità, visto anche quello che si racconta in televisione e quello che scrivono i giornali, scoperte oltre 50.000 cattedre. Che succede dal punto di vista degli insendianti, dei professori? Presidente Giannelli. Ma guardi, io credo che come spesso sta accadendo in questi giorni, si confondano notizie e informazioni che hanno a che fare con l'emergenza Covid con altre che hanno un po' meno a che fare. Allora, ricordo che i posti di insegnamento in Italia sono circa 800.000 e ne mancano 200-250.000 di ruolo, per il fatto banale che ogni anno vanno in pensione un certo numero di persone, diciamo 40.000 all'anno, e che lo Stato non riesce a star dietro a questi pensionamenti con un numero di concorsi equivalente. Cioè non riusciamo ad assumere 40-50.000 persone di ruolo ogni anno e quindi si accumulano negli anni un certo numero di posti vuoti che vanno coperti con supplenti. Quindi in questo avere 50.000 posti scoperti insomma non è una cosa particolarmente significativa. È evidente che in questo momento c'è un po' di preoccupazione tra il personale per la situazione Covid, perché ricordo che il personale della scuola è abbastanza avanti negli anni, oltre il 40% dei docenti ha più di 55 anni, che di per sé non significa nulla. Ma se sogniamo questa condizione anagrafica con magari delle pregresse patologie o qualcosa che comporti una situazione di immunodeficienza, allora si crea quella cosiddetta situazione di fragilità che è in questi giorni oggetto di esame da parte dei medici competenti e sui quali peraltro stiamo attendendo istruzioni un po' più precise dal Ministero della Salute e dall'Inail per sapere come gestire. Quindi voglio dire, indubbiamente ci sono delle criticità, però non sono macroscopiche rispetto al... Diciamo così Giannelli, lei anche per il ruolo che riveste getta un po' di acqua sul fuoco, dice ridimensioniamo i diversi allarmi e cerchiamo di capire come stanno le cose. Sempre in riferimento a quanto si legge oggi, no? Lei faceva riferimento ai professori, come li potiamo chiamare, ai lavoratori fragili. Sembra che già però ci siano migliaia di domande di professori che chiedono l'esonero. Io a questo proposito voglio coinvolgere Cesare Damiano perché mi pare che toccherà proprio all'Inail certificare la fragilità di queste persone. È così Damiano? Guardi, il tema della fragilità è interno all'attuale mercato del lavoro. Si sta parlando dell'età media degli insegnanti, oltre i 50 anni. Se parliamo del mondo del lavoro privato, mediamente secondo l'Istat abbiamo persone che hanno 44 anni di età. Quindi è evidente che abbiamo una forza lavoro in età avanzata e quindi, come sappiamo, può avere più patologie e più rischi da sostenere di fronte ad una pandemia. In ogni caso, anche qui ci vuole una regola di buon senso. Io ricordo, faccio un esempio positivo, che ai tempi dell'esposizione del virus ci sono stati dei volontari in pensione medici che hanno pagato con la vita per dare un aiuto alla comunità. Allora, non tutti debbono essere eroi, però io credo che in qualche modo, nel momento in cui dobbiamo accollarci tutti, la convivenza con questo rischio, perché questo Covid, finché non ci sarà il vaccino, ci accompagnerà, bisogna sapere che il rischio zero non esiste per nessuno di noi. Non esiste per nessuno di noi. Quindi è evidente che chi ha delle patologie certificate, accertate, per le quali, come si dice, qualsiasi esposizione sarebbe sconsigliata, va esonerato. Però io, anche in questo caso, sarei per delle regole, non dico rigide, ma oggettive, che limitino molto questi esoneri. Dopodiché vale anche per la scuola come valso per le attività private. Io quello che dico, le associazioni lo sanno, dei presidi piuttosto che dei sindacati, dei lavoratori della scuola. Quello che conta è la condivisione tra le parti sociali, in questo caso il Ministero dell'Istruzione e i sindacati che rappresentano tutte le figure all'interno della scuola, attraverso i cosiddetti protocolli, che sono quelli che da una parte danno le indicazioni più responsabili di comportamento che è avvenuto nel privato, può avvenire nella scuola pubblica e privata. Dall'altra parte, quei protocolli, se giustamente applicati, diciamo, da A alla Z, sono quelli che esentano ovviamente i dirigenti scolastici anche dalle responsabilità che potrebbero derivare dalla contrazione del virus, anche se questo è un virus multifattoriale, quindi non si può dire che si contrae in quel posto, lo puoi contrare a casa piuttosto che sull'autobus, piuttosto che a scuola, piuttosto che al supermercato. Sì, perché anche per i presidi c'è stata la richiesta di una sorta di scudo penale, proprio, no? C'è la norma del decreto liquidità, all'articolo 29 bis, che in qualche modo ha, non dico messo, uno scudo penale, però ha dato, come si dice, una chiara indicazione circa il non avere responsabilità riconducibili all'articolo 2087 del Coggio Civile, né penali né civili, nel caso in cui ognuno faccia la sua parte, cioè l'ingresso non è l'uscita, la distanza, eccetera, eccetera, tutte le cose che sappiamo. Quindi una buona condotta esonererebbe. Sappiamo, diciamo, che è un argomento di grande delicatezza quello della scuola e che ovviamente, ci diceva giustamente Cesare Damiano, ci vuole un quadro generale, no? Di norme, insomma, di indicazioni che siano i più possibili puntuali. Poi sappiamo come è diversificato... Un protocollo è stato fatto. Sì, no, ma sappiamo come è diverso il paese, di come sono diversi gli istituti scolastici, di come sono diverse le esigenze. Diciamo che in questa fase ci vorrebbe, uso due parole, due definizioni, molta responsabilità e anche molto buonsenso, no?